Belli freschi, oggi sono qui per recensire Sicariato di Gallagher Però prima di iniziare volevo dire due cose Uno, è uscito il disco di Salmo, questo video sto recando primo ottobre E appena possibile imbecherò con Dale per fare appunto la recensione del disco di Salmo Che non ho ancora sentito, però mi hanno detto che c'è tra i feat mia sorella Shari Quindi almeno quel pezzo lì non sarà un completo aborto Arriviamo a Sicariato del buon Gallagher Allora, preambolo veloce anche su appunto questo album Dal punto di vista di marketing ha fatto una mossa poco intelligente il buon Gallagher Perché l'anno scorso aveva un botto di hype addosso Dopo l'uscita di un po' di singoli Però non ha fatto uscire, ha rimandato eccetera E purtroppo non si è che ne vuoi essere in realtà Purtroppo dal punto di vista di marketing Grazie a Dio dal punto di vista qualitativo E quindi adesso hai fatto delle poche stream Cioè poche nel senso Facessi io le tue stream mi prenderei il cazzo in mano Però nel senso poche per quante ne potresti effettivamente fare E comunque il disco è bello Lui appunto Gallagher rappa bene, ha una bella attitudine Swagga, drippa come vogliamo chiamarlo Flexa tutto E su dei beat comunque che ci stanno E il penso l'aggettivo perfetto per questo disco è funzionale Perché lui Incarna comunque diciamo anche i cliché della trap Però lo fa bene Come magari lo faceva anche la Darknet Trilogy Non sto paragonando questo disco a un qualsiasi disco della Trilogy E' giusto per un attimo capire i riferimenti che ha avuto Gallagher E appunto lui Ci sta attitudine Rappa bene Scrive sempre le solite cose però Gaza, attitudine Tutte queste cose qua Ok I beat non so niente di che Ma sono funzionali E appunto il disco è corto La lunghezza perfetta è funzionale I feed ci stanno Bella per Traffic Che è tornato in galera Ho capito Quindi sì nel complesso è un disco godibilissimo Che gasa E in cui ci sono pezzi veramente potenti Tipo Fentanyl è uno dei pezzi più potenti degli ultimi anni Poi c'è mi sembra Bricks Che è il peggior pezzo del disco Che non mi è piaciuto più di tanto Poi anche quello con Traffic Molto potente Beh comunque nel complesso mi è piaciuto Molto godibile Molto divertente E non annoia assolutamente La durata è perfetta Cos'è ho tipo 11 pezzi Mezz'ora Durata veramente perfetta E bella per i Flex Boys Spero che comunque col tempo Faccia un po' di stream anche a sto disco Perché se le merita E la rec è finita bella